Il funzionario che sta condizionando il sistema sociale, il computer. L'informatica invade tutti i settori del sistema sociale. Dalla propaganda del comando sociale viene tenuta nascosta o viene fatta passare in secondo piano la finalità di questo strumento. Questo strumento rappresenta, socialmente parlando, la resa del comando sociale. Il riconoscimento, da parte del comando sociale, della propria sconfitta e della propria incapacità di riadattarsi allo scorrere del tempo e delle trasformazioni degli esseri umani all'interno del sistema sociale. In altre parole, rappresenta la resa dei deisti. In cosa consiste tale resa? Il computer ha due aspetti da separare e considerarli indipendentemente. Funge dal magazzino dati e li elabora all'interno di schemi predeterminati. Usare questo strumento come magazzino dati è un ampliamento dell'azione all'interno del quotidiano della ragione. Ma il computer viene predisposto per l'elaborazione dei dati in schemi predisposti precedentemente. Questo significa che a poco a poco il comando sociale tenderà a strutturare il sistema sociale in funzione di quegli schemi. Il comando sociale diventerà più agile e più immediato nell'esercizio del controllo del sistema sociale. Inizialmente questo strumento viene impiegato per strutturare i comportamenti di quei settori direttamente funzionali al comando sociale, banche, industria, ministeri, organizzazione statale in generale. Da qui si diramerà in tutti i settori del sistema sociale alterandone i comportamenti per adattarli agli schemi dei computer. La strategia passerà attraverso il gioco. La strategia passerà condizionando i comportamenti dei bambini. Basterà fare questo o basterà fare quello. Non dovrà servire molto impegno né molta conoscenza. Meglio che la conoscenza sia ridotta al livello più basso possibile. Chi non ha conoscenza e percezione è solo bestiame pascolato ad uso e consumo di qualche dio. Standardizzare i comportamenti sociali. Come da programma. Standardizzato dovrà essere il linguaggio. Quando le parole assumono un significato diverso non possono essere accettate dai programmi. Creano confusione. Tutto il sistema sociale, a parte i settori privilegiati da cui il comando sociale intende attingere i suoi futuri componenti di più alto rango, verranno standardizzati. Ci vorranno un paio di centinaia d'anni, con l'esclusione di alcune variabili, perché il progetto si completi. Ma questa è la tendenza. Uccidere l'intelligenza, come capacità di leggere dentro. Uccidere la fantasia, come capacità di estendere la percezione dell'immaginazione. Uccidere tutte le variabili e le alternative non funzionali. L'ultimo obiettivo dei deisti. Dovettero necessariamente imboccare questa strada. Negli ultimi trent'anni non avevano più intelligenze a loro disposizione. Molte erano quelle che nascevano, ma molte subivano tutta una serie di provocazioni da parte del comando sociale per cui o si ribellavano o fuggivano, si sottraevano. Nel corso degli ultimi cinquant'anni venne sviluppandosi l'effetto valanga dell'imbecillità. Tutti coloro che stavano in una posizione sociale privilegiata cercavano di proteggere i propri interessi nei confronti di chi, più intelligente, più preparato o semplicemente più giovane, chiedeva la loro strada. Così ogni capo voleva subalterni leggermente più stupidi di lui o più vigliacchi. Questo in tutti i settori del comando sociale. Nel giro di cinquant'anni è venuto sviluppandosi un comando sociale retto da imbecilli armati. Costoro, per assicurarsi il controllo delle masse d'allevamento, dovettero ricorrere ad uno strumento nuovo, il cosiddetto condizionamento mediante mass media, suonatori di tamburi e gran casse. Qualcuno provava a resistere. Intervennero con i licenziamenti, il linciaggio delle forze sociali e, quando questo non era sufficiente, si isolavano i recalcitranti in settori nei quali non avrebbero nuociuto. I mass media erano dediti alla menzogna. A loro era ed è proibito chiedersi il perché delle cose. Individui netti erano selezionati per occupare posti di supporto al comando sociale. Costoro, oltre a servire al comando sociale, dovevano gestire innanzitutto la loro sopravvivenza all'interno dello stesso. Il computer si adattava perfettamente alle loro esigenze. Era sufficiente inserire un programma nel computer e inviargli di volta in volta i dati. Il computer dava le soluzioni. È semplice. E le variabili? Che cosa sono? Cose che si mangiano? Cancellare, cancellare. Ignorare, ignorare. Ignorarono la realtà del circostante e, peggio ancora, ignorarono le tensioni dell'esistente. La presenza di variabili non catalogabili era fastidiosa. Sconvolgeva i loro programmi e gli obiettivi prefissati. E allora la risposta era ridurre l'intero sistema sociale alla loro dimensione. Stupidità nei confronti delle milioni di sfaccettature dell'universo. Stupidità nei confronti della dialettica. Stupidità nei confronti delle linee di tensione. Il loro progetto a lunga scadenza è quello di appiattire tutto il sistema sociale sui programmi elaborabili dal computer. Questo è il significato dell'introduzione massiccia dell'informatica nelle scuole, con gli allievi il più giovani possibile. Perché non nelle scuole materne? Il condizionamento ottenibile è ancora migliore. La proposta è già mormorata. È necessario guardare avanti. Il computer massificato è l'ultima operazione inventata dai deisti per il rinnovo del condizionamento educazionale sugli esseri umani. Era necessario inventare qualche cosa di nuovo per riprendere il controllo sugli individui. Il confessionale non funzionava più. Con i sommovimenti sociali dell'ultimo secolo, gli esseri umani si erano ritagliati il diritto al riposo dalla fatica del lavoro e si erano conquistati il diritto alla parità sessuale, anche se le forze adoratrici degli esseri autospacciatisi per Dio creatore mantenevano fortissime opposizioni ed erano sempre in agguato per limitare la libertà degli individui dopo vere e proprie rivoluzioni culturali. Occorreva preparare un attacco partendo da un altro presupposto, attaccare il sistema sociale da altri fronti. Il computer è un attrezzo funzionalissimo per il controllo dei comportamenti delle persone. Il sapere e la conoscenza non passano attraverso l'uso di strumenti, ma attraverso la compenetrazione dei miliardi di sfaccettature della realtà. Gli esseri umani devono essere molto attenti alle imposizioni e al condizionamento nascosto dietro l'uso di strumenti e mezzi, pur senza rifiutarli fin tanto che saranno in grado di ridurre la fatica del lavoro. Non è solo lo sviluppo della stupidità, è molto di più una nuova strada per la produzione dell'energia vitale stagnata. Un nuovo nemico si affianca all'orrore. Sapere e conoscenza sono molto importanti quando non sono proiettati in tutte le sfaccettature dell'universo. Non sono nulla quando vengono cortocircuitate entro labirinti sterili inventati dal comando sociale. Bloccare lo sviluppo del sapere e della conoscenza porta il blocco dell'energia vitale stagnandola. L'imposizione di ogni nuovo blocco sottiene attraverso nuovi milioni di morti. La conoscenza del sapere è una delle strade maestre intraprese dagli esseri umani per coltivare la coscienza di sé lungo la strada del sé. Gli esseri umani devono trovare strade e modi per impedire l'appiattimento degli esseri umani e il loro insterilirsi. Il rischio è un nuovo oscurantismo. È una questione di sopravvivenza per gli esseri umani. Dove c'è vita, confronto, contraddizione, dialettica, movimento un essere umano è sempre protetto mentre sviluppa la coscienza di sé così per un psichista e per un guardiano. Dove c'è immobilità, appiattimento, stupidità un essere umano è sempre in pericolo così per un psichista e un guardiano. Con questo noi concludiamo la seconda parte del libro dell'Anticristo ed è la via umana al divenire eterni. In conclusione, il discorso sul computer ha un fine ben preciso ed è quello di distinguere il fine dai mezzi. Cioè, uno strumento non è fine del divenire della persona non è il fine della persona ma è un oggetto che la persona usa per raggiungere un fine. Per cui, fintanto che il computer lo usate come una macchina da scrivere lo usate come un magazzino dati lo usate per ampliare voi stessi è uno strumento utile ma quando hai il computer bisogna riferirsi in quanto i suoi programmi sono tali da portare al controllo delle persone quando le persone devono muoversi in funzione dei programmi del computer io mi ricordo un 740 dove c'era da scrivere 50-60 volte il numero di codice fiscale per metterlo bene in computer. Cioè, quando il fare delle persone viene condizionato dalla macchina allora la persona viene distrutta dalla macchina la persona vive in funzione della macchina ed è il momento in cui viene uccisa la conoscenza all'interno della persona. Per cui distinguiamo sempre i mezzi dal fine gli strumenti dall'uso che ne facciamo degli strumenti noi dobbiamo essere in grado di determinare il fine delle nostre azioni il nostro intento lo strumento, scusate ci serve per raggiungere l'intento ma lo strumento non deve essere il fine delle nostre azioni questo è importante così vale anche per il denaro e il denaro è uno strumento di cui ci serviamo per raggiungere un intento ma non può essere il fine del nostro fare il fine delle nostre azioni se il denaro da strumento da mezzo diventa fine distrugge il divenire della persona questo è il discorso sul computer in sostanza la terza parte del libro dell'anticristo scusate un attimo tratta della fondazione della libertà nella seconda parte abbiamo parlato degli elementi per costruire il divenire eterni all'interno della specie umana cioè la via umana al divenire eterni mentre la terza parte parla degli elementi che servono a fondare la libertà fondare la libertà dell'individuo la libertà della percezione la libertà del divenire la libertà delle scelte la libertà delle relazioni cioè quando si parla di libertà un pagano parla sempre della divinità libertà del dio libertà del dio libertà che compenetra tutte le coscienze esistenti e col quale entra in relazione così vale per ogni divinità astratta ogni divinità astratta è un potere nell'oggettività che ci circonda ma è anche un potere che monta dentro di noi e noi entriamo in contatto con l'oggettività che ci circonda proprio alimentando il potere che cresce dentro di noi proprio aumentando le divinità astratte che crescono dentro di noi comunque questo concetto continueremo a ripeterlo per moltissime volte e sotto moltissimi aspetti dunque la terza parte la fondazione della libertà un aspetto che cos'è la conoscenza e qui è importante rispondere a questa domanda per il libro d'anticristo per i pagani e per i psichisti la conoscenza è il momento in cui il fenomeno cessa di essere l'oggetto per il soggetto e questo conosce l'oggetto in sé al di là della specificità dei suoi fenomeni e questo per Kant è una cosa che non esiste dal momento che non possiamo stabilire oggettivamente quando il soggetto riesce a superare la descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni e a conoscere l'oggetto in sé chiameremo conoscenza quel processo attraverso il quale il soggetto tende a superare la percezione dei fenomeni per giungere alla percezione dell'oggetto in sé in pratica che cos'è la conoscenza è il processo di trasformazione dell'individuo il processo di trasformazione della percezione dell'individuo questo intendiamo ogni volta che parliamo di conoscenza dialettica e divenire che cos'è la dialettica e che cos'è il divenire per la stragoneria per il paganesimo per il psichismo tutto l'esistente è divenuto è fondazione del divenire tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti io uso il termine dialettica alla marxiana alla marxista non come Aristotele Aristotele usava il termine dialettica come modo di parlare come modo di esprimersi io uso il termine dialettica come capacità di interrelazione fra gli oggetti che arrivano in contatto la mutua relazione il mutuo cambiamento degli oggetti per cui chiariamoci sempre non è il discorso ma è la relazione fra le cose la dialettica per me tutto l'esistente è divenuto e divenire tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti tutto l'esistente è riversarsi di una parte nelle altre e delle altre nell'una il divenire è il processo dell'energia vitale la quale dal fluttuare inconscia nell'universo si trasforma in coscienza di sé attraverso e all'interno di un numero infinito di condizioni la staticità è la cessazione delle trasformazioni rendendo inutili e vanni gli sforzi e le trasformazioni precedenti non solo distrugge la coscienza di sé faticosamente costruita attraverso le trasformazioni ma tende a bloccare il fluttuare dell'energia vitale nell'universo impedendo così a questa di dare il via nuovi processi di trasformazione attraverso i quali costruire nuove coscienze di sé e qui abbiamo definito sia la dialettica sia il divenire bene continuando sempre nella fondazione della libertà c'è il capitolo il tentativo di definire la teoria della dipendenza e questo è quello che segue sono due fra i capitoli più difficili che abbia dovuto svolgere perché ho dovuto trasformare delle relazioni delle sensazioni del fare in un fare magico in parlato in discorsivo e sono forse i due capitoli più difficili e più duri che esistono nel libro dell'anticristo adattatevi un po' ad ascoltarli se avete voglia parlando delle contraddizioni Mo Tse Tung divide questa in termini sociali ed esistenziali nelle contraddizioni fra noi fra noi è il nemico e fra noi è la natura come affermava Eraclito il principio di contraddizione è il principio fondamentale della natura in quanto la contraddizione è l'elemento evolutivo e costitutivo della materia così nella specie umana la contraddizione è il motore attraverso il quale essa progredisce si evolve si modifica adattandosi alle soluzioni da essa considerate nella soluzione delle contraddizioni Mo Tse Tung propone tre metodi i quali sono tali da definire le contraddizioni stesse il dibattito per le contraddizioni fra noi la guerra per le contraddizioni fra noi e il nemico il lavoro per le contraddizioni fra noi e la natura le contraddizioni determinano i rapporti e i rapporti sono sempre rapporti di dipendenza i rapporti fra noi sono rapporti di sesso sono rapporti attraverso i quali la specie si organizza e si riproduce perpetuandosi dunque sono rapporti di sesso i rapporti fra noi e la natura sono rapporti fisici sono rapporti attraverso i quali l'essere uomo e la natura cercano l'equilibrio attraverso il quale l'uno sia funzionale all'altro e l'altro è l'uno quando l'uno e l'altro sono uno dalla natura l'essere umano ricava cibo e tutto il suo corollario ricerca di benessere fisico alla natura l'essere umano cede le sue mani dunque sono rapporti fisici i rapporti fra noi e il nemico sono rapporti di libertà anche per il nemico tutto sta nella scelta del punto di vista attraverso il quale si osserva il rapporto sono rapporti attraverso i quali una parte dell'essere umano tende ad usare un'altra parte per il proprio esistere e quella parte tende a sottrarsi all'uso per il proprio esistere la libertà dell'uno rappresenta la schiavitù dell'altro mentre la libertà dell'altro comporta la non esistenza dell'uno i rapporti fra noi e il nemico sono rapporti economici attraverso i quali una parte determina il possesso del sistema sociale umano la dipendenza all'interno dei rapporti non può essere eliminata in quanto è parte integrante del rapporto stesso può essere determinata nelle sue forme in base alle scelte proprie della via alla conoscenza e alla consapevolezza degli esseri umani attraverso tale via definiremo la dipendenza in due moti dipendenza unidirezionale e dipendenza dialettica questi due tipi di dipendenza sono quelle atte a determinare le contraddizioni sociali fra gli esseri umani la soluzione delle contraddizioni sono i momenti attraverso i quali gli esseri umani si evolvono e questa evoluzione può essere unidirezionale o dialettica sempre sulla contraddizione Mozartung afferma che quando la contraddizione cessa di essere fra noi si trasforma in fra noi e il nemico in quanto cambiano i mezzi attraverso i quali si tende la sua soluzione i mezzi determinano il tipo di contraddizione la qualità della dipendenza determina l'essenza neumenica della contraddizione dunque la contraddizione è solo fra noi e il nemico sempre la divisione mediante i mezzi attraverso i quali le contraddizioni vengono risolte determina una divisione delle contraddizioni ma le esigenze attraverso le quali questi mezzi sono determinati sono fenomeni delle contraddizioni non le contraddizioni stesse l'essenza delle contraddizioni è rapportarsi fra gli individui attraverso un rapporto di dipendenza fra gli individui stessi dove anche la natura è da considerare un individuo chiameremo dipendenza dialettica quando fra gli individui si crea un rapporto di mutuo vantaggio e di mutua soddisfazione di reciproci bisogni chiameremo dipendenza unidirezionale quando il vantaggio del rapporto sta tutto da un lato mentre dall'altro è concesso il minimo funzionale alla sopravvivenza e alla riproduzione di se stessi le contraddizioni possono essere divise in base al rapporto di dipendenza instauratosi nel loro sviluppo e nel percorso concernente la loro soluzione le contraddizioni di natura sessuale economica o fisica sono contraddizioni sviluppate sempre attraverso un rapporto di mutua dipendenza è sempre un rapporto dialettico quello atto a favorire lo sviluppo della specie umana su questo tipo di dipendenza si staura la dipendenza unidirezionale è un non sbocco della contraddizione è la cessazione di una parte ad opporsi ad un'altra parte è l'appiattimento della contraddizione su una parte senza eliminare l'altra parte è una non soluzione attraverso la quale lo sviluppo della specie umana viene bloccato non crea sviluppo un sistema sociale nel quale la specie saccheggia della natura un sesso un altro sesso individui si servono di schiavi della propria specie o di essere di altre specie bloccati nelle loro condizioni di sviluppo la dipendenza è l'essenza della contraddizione la quale sviluppa le parti in causa solo se le parti si riversano l'una nell'altra per questo motivo la dipendenza è la morte dello sviluppo delle parti in causa quando questa diventa unidirezionale incapace di risolvere la contraddizione bloccandone la soluzione nell'illusoria soluzione favorevole ad una parte la vittoria all'interno di una guerra è una sconfitta per lo sconfitto e per il vincitore in questo in questo trattato sul tentativo di definire la teoria della dipendenza ha uno scopo fondamentale ed è quello di risolvere quello di descrivere le contraddizioni che porta un apprendista stregone quando deve relazionarsi con qualcosa ogni relazione che un apprendista stregone compie è sempre una relazione di scontro è sempre una sfida abbiamo già detto che il paganesimo la stragoneria la vita per il paganesimo la stragoneria sono sfide sfide continue nella vita però questa sfida non è portata per accapararsi l'individuo non è fatta per dominare ma è fatta per dilatarsi è fatta per ricevere conoscenza sapere per costringere se stessi a concentrarsi e per costringere il sistema in cui si è immersi a concentrarsi su se stessi e concentrare la propria energia la propria attenzione il proprio fare per cui la stragoneria vive per sfida però la sfida è la contraddizione e la contraddizione deve essere volta sempre a costruire gli individui mai ad appropriarsi di qualcosa quando ci sia proprio di qualcosa si ha una non soluzione della contraddizione cioè si ha una delle parti della contraddizione che non ha più sviluppo cessa di svilupparsi cessa di modificarsi pertanto è una soluzione dipendente si crea un processo di dipendenza assoluto non si crea ricchezza non si crea relazione dialettica fra le parti questo vale anche per la natura cioè se noi la natura anziché camminare insieme anziché relazionarci anziché dilatarci nella natura ci appropriiamo della natura la saccheggiamo la natura siamo sconfitti sia noi che saccheggiamo la natura sia la natura del nostro saccheggio per cui non c'è vincitore fra i due c'è soltanto il saccheggio e il saccheggio non porta nulla questo vale anche per il sesso la relazione sessuale o anche le relazioni fra gli esseri umani sono sempre una relazione di dipendenza perché entrambi si costruiscono però se c'è il possesso non c'è più una relazione dialettica c'è una relazione di sottomissione pertanto una delle due parti viene distrutta ma in realtà viene distrutta anche l'altra cioè sia chi sottomette sia chi viene sottomesso si distruggono a vicenda per cui questo è il motivo di questo passo al di là della della sua difficoltà nel dispiegarsi però questo è ciò che la teoria della dipendenza vuole dire e adesso ve ne do uno ancora più duro dell'altro che ho diviso in due parti perché sono stati scritti dopo due sognari diversi e questo credo sia stato scritto anche nel 1990 questo passo è introdotto nel libro dell'anticristo del 1990 questo passo è adattamento soggettivo alle variabili oggettive che è uno dei principi fondamentali della stregonaria del paganesimo cioè praticamente come avviene l'evoluzione la trasformazione degli individui attraverso l'adattamento della propria soggettività a quanto oggettivamente incontrano per cui ogni volta che nell'oggettività viene una modificazione gli esseri modificano se stessi per adattarsi e questo vale anche per qualsiasi crogiolo dello stragone ogni volta che introducete un elemento o variate un elemento gli altri elementi all'interno del crogiolo si adattano per compensare il movimento che avete fatto pertanto l'arte della stregoneria può essere quella di variare gli elementi all'interno di un sistema per ottenere un effetto bene detto questo diamo legge adattamento soggettivo alle variabili oggettive un attimo se questo passo non riuscirete a capirlo vabbè insomma è abbastanza duro comunque la prima parte l'adattamento crea la variabile oggettiva la variabile oggettiva assieme a tutte le altre crea l'oggettività così il tempo è determinato è determinato dal mutamento donde il mutamento soggettivo crea il tempo soggettivo in teoria la risultante della interazione dialettica dei tempi soggettivi determina il tempo oggettivo quest'ultimo è mera idea e non è reale in quanto non è reale l'interazione dialettica dei tempi soggettivi se non riferiti al tempo dei mutamenti di un essere che comprenda tutti gli esseri considerati il mio tempo soggettivo non può produrre interazione dialettica con quello di una rana in quanto i mutamenti biologici sono diversi ma il pianeta terra è in grado di determinare e comprendere sia il mio tempo che quello della rana peraltro verso il tempo soggettivo di alcune cellule che compongono il mio corpo è diverso dal tempo biologico di altre cellule pertanto come io sono la misura dell'interazione dialettica di tutte le cellule del mio corpo il mio tempo soggettivo altro non è che la risultante del tempo soggettivo delle singole cellule che compongono il mio corpo se però non esiste un tempo soggettivo ma questo è solo una constatazione del mutamento biologico degli esseri allora esiste la possibilità di dilatare o di comprimere il tempo del mutamento soggettivo dal momento che il mutamento soggettivo ha come referente il mutare dell'oggettività è possibile essere biologicamente più veloci o più lenti rispetto all'oggettività stessa non è possibile accettare come tempo oggettivo quello determinato da orologi in quanto questo è tempo socialmente imposto in base al mutamento della posizione astronomica dei pianeti per un soggetto il tempo oggettivo è quello della propria soggettività che viene a confrontarsi col tempo soggettivo degli esseri della propria specie e viene costretto a piegare il proprio tempo soggettivo al tempo socialmente imposto ricordo che non rispondo della telefonata finché non ho finito sottrarsi al tempo socialmente imposto permette il dominio dell'individuo sul proprio tempo soggettivo biologico quando ciò avviene c'è la possibilità di contrarre o espandere il tempo soggettivo rispetto all'oggettività del tempo medio degli esseri della propria specie ma solo se il soggetto è posto in condizioni critiche rispetto ad un qualche problema specifico è sotto tensione rispetto al quotidiano della ragione la dilatazione e la compressione del tempo può avvenire soltanto se gli individui sono in una situazione critica costretti ad agire ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito costretti ad agire sull'intera struttura biologica per poter risolvere la situazione stessa è necessaria una relazione violenta perché cessi il ruolo della razionalità che base il proprio agire sul tempo socialmente imposto per permettere l'entrata in funzione dell'intera struttura biologica nella quale opera il tempo soggettivo agendo su questo mutando più o meno velocemente cioè accelerando o decelerando i mutamenti soggettivi il soggetto può risolvere la situazione stessa condizione fondamentale perché ciò possa avvenire è la capacità del soggetto di liberarsi dal tempo socialmente imposto impedendogli di trasformarsi in proprio tempo biologico iniziando in pratica la propria distruzione l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive vale anche per le condizioni del tempo l'adattamento costante o il riadattamento costante al tempo soggettivo nelle singole realtà oggettive incontrate e alle singole contraddizioni cui si è sottoposti porta ad una maggiore liberazione dell'energia vitale che costruendo un corpo energetico sempre più forte potenzia la lucidità del soggetto nel percepire il mondo della ragione il tempo biologico soggettivo rappresenta una componente fondamentale nella libertà del fare del singolo individuo libertà del fare il cui scopo è la costruzione del potere di essere è il mutamento a determinare la durata del tempo ma è il tempo che misura il mutamento sia nella velocità che nella non velocità mentre l'esistenza del reale ne determina la qualità o se vogliamo la direzione ogni scelta incide nella formazione del corpo luminoso degli esseri la maggiore velocità nell'affrontare la realtà nel mondo della ragione rappresenta un'accelerazione del ritmo delle esplosioni nella sequenza dei mutamenti della crescita dell'essere tempo soggettivo biologicamente accelerato la decelerazione usata nell'affrontare la realtà del mondo della ragione costituiscono atti di difesa nella formazione del corpo luminoso tempo soggettivo biologicamente decelerato da attacchi dell'oggettività esterna al corpo nel quotidiano della ragione si è sottoposto continuamente ad attacchi e nello stesso tempo ogni volta che per una qualsiasi ragione si tenta di incidere sulla realtà della ragione si portano degli attacchi nei confronti di altri esseri fra parentesi si vive per sfida dalla predisposizione soggettiva con cui si portano gli attacchi o si subiscono dalle scelte fatte nell'esporsi e nel sottrarsi agli attacchi e nel non portarli dalle scelte all'origine delle decisioni di attaccare o non attaccare si costruisce l'adattamento del tempo soggettivo la velocità dei mutamenti e la loro qualità il tempo iniziò quando il grande botto dette origine alla formazione dell'universo come noi oggi lo conosciamo e avrà fine quando l'universo tornerà ad essere uno con tutti gli esseri dell'universo qualunque sia stata la loro via la cessazione del tempo per i singoli esseri coincide con la fine della loro crescita con la morte e la dispersione della loro consapevolezza è corretta l'affermazione secondo cui il tempo in termini di passato e di futuro non esiste tutto è presente il presente è la risultante di ogni mutamento avvenuto nel passato sia che noi lo conosciamo sia che non lo conosciamo il futuro è sospeso nella scelta di adattamento soggettivo alle variabili oggettive di tutti gli esseri esistenti è possibile risalire nel passato partendo dalla capacità di percezione del presente le cosiddette memorie di vite passate altro non sono che svolgimento a ritroso di singoli risultanti nel presente scomposte in situazioni particolari da individui che probabilmente non hanno nulla di meglio su cui concentrare la loro attenzione ed è sempre la propria capacità di percezione del presente a permettere di risalire il futuro il quale sospeso fra le infinite decisioni possibili e scelte di tutti gli esseri esistenti può essere risalito tanto più se è in grado di percepire le possibili scelte degli esseri che concorrono a formare quello specifico futuro ma è sufficiente la presenza di una variabile in una singola scelta di un singolo essere concorrente perché quel futuro si riveli diverso dal futuro percepito il tempo non è un'unità determinante determinanti sono i mutamenti riferiti alle scelte che il tempo si limita a registrare incidere sul tempo significa incidere sui mutamenti ma in realtà la preposizione deve essere invertita l'unico modo per incidere sul tempo è quello di incidere sui mutamenti siccome io ho fatto una fatica terribile per leggere questa parte anche perché questa parte mi è derivata direttamente dal sognare e praticamente l'ho scritta in una situazione di mezzo coscienza di mezzo è una parte estremamente faticosa il senso fondamentale è questo il tempo è la misura del mutamento però io sono padrone del mio mutamento soggettivo io posso accelerare il mio tempo soggettivo o decelerarlo se volete un esempio di questo è possibile quando le persone vanno in una grotta vengono messe in una grotta e stanno dei mesi per una grotta la giornata non è più fatta di 24 ore ma cambia diventa di 36 48 ore cioè il tempo della persona si allunga si dilata per permettergli di resistere meglio praticamente la persona non fa altro che rallentare le proprie funzioni biologiche in modo da vivere in un arco soggettivamente più breve il tempo di stare in grotta bene questo tipo di processo è possibile farlo per ogni individuo e fa parte della stregonaria e questa è una delle operazioni di stregonaria che vengono fatte noi abbiamo sempre detto che la stregonaria è la trasformazione dell'individuo è l'individuo che diventa padrone di se stesso bene il controllo sul tempo fa parte di questo processo fa parte dell'arte della stregonaria bene se qualcuno vuole telefonare ricordo che il numero di radiogamma è 700 700 prefissato da 049 risponderò alle telefonate ormai vedo che mancano 10-15 minuti circa le 8 e fra poco saranno qui i ragazzi cinzie vi ricordo che il libro dell'anticristo è stato fornito a chiunque lo abbia lo abbia richiesto nelle forme in cui è stato richiesto vediamo un attimo pronto è stato fornito a chiunque è stato richiesto alle condizioni in cui sono state richieste non pensate un capolavoro di scrittura pronto pronto se non pensate di avere un capolavoro di scrittura o un'opera d'arte è un insieme di concetti scritti nel modo migliore possibile pronto è scritto nel modo migliore possibile ed esprime il pensiero delle persone quelle pronto esprime quello che è il pensiero e quello che è la soggettività delle persone l'individuo non è un creato l'individuo è un divenuto ed è l'individuo costruisce se stesso costruisce se stesso attraverso le scelte pronto ciao ciao Claudio sono Fulvia dimmi tutto senti io ti sto seguendo adesso perché purtroppo per lavoro non posso più seguire come prima comunque è così ho seguito questa ultima parte sul tempo sulle modifiche che facciamo sul tempo io volevo chiederti una cosa così per vedere se tu la cosa come la vedi tu e la cosa come la vedo io allora se io sono consapevole del tempo che ho e che metto a disposizione di me stessa ho un'accelerazione perché secondo me è la mia interpretazione perché nel momento in cui io sono consapevole diciamo che biologicamente andiamo alla pari mi segui? si si ti sto seguendo mentre se io non sono consapevole del mio atto delle mie situazioni dei miei fatti e quindi creo dipendenza da quello che sono io e quello che mi circonda esterno o interno a me non è importante questo quindi comunque ho una dipendenza creata da me stessa e anche dall'esterno ho una decelerazione diciamo del tempo certo si forma una formazione di attesa allora ti ho capito si hai capito perfettamente ma guarda un po' sono proprio contenta perché io ti seguo tu fai discorsi molto difficili però io riesco a capire probabilmente siamo abbastanza nell'onda diciamo di percezione perché quando ho scritto questo penso che neanche io sapevo cosa esattamente stavo scrivendo io ti ho seguito stasera così proprio guarda dalle sette e mezza in poi perché sono arrivata adesso e niente e dicevo ma guarda un po' è proprio vero che quando io voglio essere nel tempo ci devo essere con tutta la consapevolezza che ho esatto ma poi le persone probabilmente dicendo atto di stregoneria o diciamo queste cose così diciamo particolari probabilmente vengono un po' sviate e io non so come chiamarlo sta di fatto che nel momento in cui io sono consapevole di me stessa le cose cambiano esatto e diciamo anche che ho quasi non è che rincorra il tempo e neppure che torni a ritroso nel tempo no ma senti i passaggi però ma senti i passaggi sì chiaramente nel momento in cui sei consapevole senti ma non so neanche se senti il tempo ma ci sono delle persone che non hanno capito che la vita di una rana è lunga come la nostra cioè in termini di consapevolezza in termini di coscienza la lunghezza del tempo del mutamento di una rana è come la nostra sì dipende da quanto tu ci sei dentro al tempo che ti appartiene perché tutti abbiamo un'appartenenza al tempo esatto va bene sono proprio contenta no perché magari uno dice ma dico cose cioè fuori di testa al limite perché non sono difficili da capire però il fatto che uno lo capisca cioè io le interpreto così però vedo che anche tu no hai centrato piuttosto bene ah va bene mi fa piacere ma te l'ho dato a te il libro dell'anticristo no? sì 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 ma te l'ho dato una versionaccia però eh sì già questa che sto vendendo adesso fa un po' pietà ma la tua è ancora peggiore va bene vabbè porta pazienza non importa comincerò a leggerlo quando sono pronta sì sì quando ne voglio quando il tempo ecco quando sarò consapevole di questo certo va bene ti saluto ciao ragazzi ciao ciao amica Fulvia ha centrato quasi perfettamente direi il problema il discorso sul tempo noi siamo abituati a pensare il tempo in termini di di società in termini di andare al lavoro di ore di lavoro ore di dormire ora di alzarsi ora di andare a scuola ma in realtà questa è una è una condizione molto molto imposta non è una condizione della nostra biologia del nostro vivere del nostro percepire il mondo noi il mondo lo percepiamo in maniera diversa cioè noi siamo padroni dello scorrere del tempo siamo padroni della trasformazione dei nostri mutamenti interni e quando siamo consapevoli di questo quando siamo determinati quando usiamo la volontà noi usiamo il tempo in maniera diversa possiamo sia sospenderlo fermarlo rallentarlo i flussi e vivere pertanto in maniera più lunga tempi che sarebbero oggettivamente lunghi cioè più corti tempi che sarebbero oggettivamente più lunghi noiosi rompono le scatole mentre invece possiamo vivere molto più profondamente e accelerare vivere pienamente quel tempo invece che ci arricchisce quel tempo di cui abbiamo bisogno quella trasformazione che ci interessa per cui quando noi mettiamo dentro le nostre determinazioni la nostra volontà di fatto non facciamo altro che accelerare il tempo diciamo vivere più profondamente nelle cose per questo il tempo della rana non è diverso dal nostro tempo ma non perché la rana viva più di noi uguale a noi ma perché il modo con cui ha di vivere gli istanti della propria esistenza sono tali da ugualiare praticamente i nostri istanti di vita dell'esistenza cioè nella magia e nella stregoneria nella coscienza e nella consapevolezza i tempi non sono cioè le cose non sono diverse il fatto che la mia energia vitale si trasformi in coscienza io come essere umano e l'altro sia un essere rana sia un essere cervo un essere lupo un essere albero non cambia le cose cioè non cambia la costruzione del corpo luminoso della consapevolezza dell'individuo se non stiamo a pensare in termini cristiani dove l'essere umano è creato immagine e somiglianza di Dio che deve servire a Dio noi proveniamo tutti dal brodo primordiale e il nostro compito è quello di costruire coscienza e la nostra vita è un'opportunità di costruire questo chiuso questo discorso ricordo che il libro dell'anticristo è stato praticamente scritto nel 1985 fu il primo libro che ho scritto e sintetizza proprio il pensiero ed è scritto male anche perché sia perché sintetizza il pensiero sia perché io non sapevo scrivere sia perché è stato scritto in quell'epoca mi è stato detto stasera guarda che fa che il tuo libro non è discorsivo non si può discutere cioè è molto duro e i principi sono molto tagliati come dei dogmi ecclesiastici ma è questo che vuole essere vediamo un attimo pronto? è questo che vuole essere in realtà cioè vuole essere una summa di principi dai quali non si può andare indietro pronto? e il libro dell'anticristo continua noi continueremo a leggere scusate un attimo noi continueremo a leggere la fondazione della libertà che oggi mi sono interrotto però di questo discorso che ho fatto fino adesso c'è la seconda parte la seconda parte del discorso sul tempo e alcuni altri effetti che vi leggerò la prossima volta dove c'è la dichiarazione che sta alla base del libro dell'anticristo non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza che necessiti di individui tenuti in stato di schiavitù o di salvaggio dove si può leggere anche non esiste conoscenza e consapevolezza quando le persone sono tenute in schiavitù come nessuna via alla conoscenza necessita di stati di salvaggio cioè né il padrone né il servo hanno vie alla conoscenza pertanto questo è un discorso che resterà chiave in tutto quanto quello che è il discorso dell'anticristo in tutto il paganesimo sull'attenzione del libro dell'anticristo è relativo all'attenzione dei sensi è stato il primo il primo lavoro che ho fatto relativo alla magia attraverso la percezione sensoria fu una delle prime cose che mi arrivavano e il primo modo di leggere quelle cose ripeto ancora se oggi dovessi riscrivere questo libro ritrattare gli stessi argomenti userei terminologie diverse e darei valore diversi ad altre cose e viceversa e altre cose a cui ho dato molto valore darei meno valore però è importante che resti così perché questo libro ha segnato lo spartiacque dalla non conoscenza dalla non stregoneria alla stregoneria cioè dal mio essere individuo sociale al mio diventare apprendista stregone in pratica la mia scelta di cosa ne avrei fatto della mia via all'apprendista stregone è avvenuta con questo libro dell'anticristo il libro dell'anticristo è la mia volontà e le mie determinazioni davanti al mondo che ci circonda per cui è la mia dichiarazione di guerra al mondo ed è quello che io regalo sia ai radioascoltatori che a chiunque me lo chiede cioè io regalo quello che volete voi non tanto un libro in sé ma regalo una dichiarazione di guerra da questa dichiarazione di guerra ricordatevi sempre che si vive per sfida ognuno può prendere quello che gli necessita ognuno può prendere e gettare tutto il resto per cui questo è il mio regalo diciamo così che faccio all'umanità prima di arrivare al paganesimo ciao ragazzi vedo che sono arrivati i ragazzi di Cinzia per cui fra poco lasceremo le trasmissioni anzi mi fanno cenno di andare avanti perché qualcuno non è ancora arrivato vabbè ok d'accordo per cui questa è una dichiarazione come tutte le dichiarazioni di guerra sono tutte stilizzate nel senso che le cose devono essere concise devono muoversi per schemi devono muoversi per frasi strette e le frasi strette possono essere scambiate per dogmi però ripeto sotto di qua non si può andare sotto di qua c'è solo l'assoggettamento al macellaio di Sodoma e Gomorra questo è il senso del libro dell'antichristo ricordo che oltre al libro dell'antichristo è stato scritto Gesù di Nazareth l'infamia umana che è un libro aperto in questo momento sta comprendendo un commentario al Vangelo di Marco sta comprendendo un commentario di punti comuni ai vari Vangeli sono dieci punti scelti un discorso di differenza fra il discorso del verbo e il discorso in Giovanni Apogrifo e infine la quarta parte la relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei sempre nei Vangeli ufficiali e quello che è il comportamento delle chiese cristiane cattoliche nel sistema sociale cioè come hanno tradotto l'applicazione nel sistema sociale gli insegnamenti del Gesù di Nazareth dei Vangeli ufficiali rispetto ai farisei cioè come Gesù di Nazareth si confrontava con i farisei così la chiesa cattolica lo ha applicato nel sistema sociale e questo per il momento Gesù di Nazareth l'infamia umana è composto da queste parti vedremo un libro piuttosto corposo e ci sono altre parti che verranno aggiunte prossimamente ed è il pazzo di Nazareth cioè un'analisi di tutti quei passi che rendono Gesù di Nazareth ufficiali un povero pazzo e quello che è il discorso che mi è stato accusato dalla pederastia e in effetti sto sempre più realizzando la realtà di questo infatti sto confrontando con alcuni Vangeli gnostici e i Vangeli gnostici stanno confortando che il Vangelo specialmente Marco il Vangelo di Marco è un Vangelo molto legato alla pederastia e questo lo stanno confortando alcuni Vangeli ritrovati sotto le sabbie del deserto in Egitto e aggiungerò anche il discorso sul tradimento di Giuda che non si capisce bene in cosa consiste questo cavo di tradimento di Giuda visto che sto qua non si capisce come Giuda l'abbia potuto tradire e un'altra parte ancora che adesso non mi ricordo in questo momento dopodiché sto lavorando ad alcuni altri pezzi e alcune altre cose che verranno aggiunte prossimamente ricordo sempre che oltre a questo c'è il sentiero d'oro che è l'analisi delle immagini della religione romana del paganesimo romano e che rappresenta la mia presa di coscienza sulla coscienza raggiunta dalle linee di tensione che attraversano il mondo cioè le linee di tensione sono esseri viventi in sé oltre a questo abbiamo ciò che porta a divenire eterni nella religione romana che è un libro che tratta sulle vie alla stregoneria all'interno del paganesimo all'interno della religione romana antica in pratica sono tutte quell'insieme di divinità delle micro divinità che formavano un percorso magico un percorso di stregoneria all'interno della religione romana ricordo che la religione romana a differenza di altri paganesimi aveva le peculiarità dei numen cioè aveva la percezione della divinità delle tensioni degli esseri e questo è una prerogativa molto importante all'interno della religione romana che supera anche quella greca addirittura la trinomia di Fischer essere non essere e divenire nella religione romana lo abbiamo in liber liber acerere cioè l'abbiamo tradotto in una triade per cui tutta la concettualità è tutta è estremamente importante quella della religione romana secondo me riassume molto altre concettualità pagane sia greche sia egiziane e sia di altri popoli però è tutto soggettivo cioè vale anche il contrario vale anche che la religione romana è assunto da altri bene io qui finisco la trasmissione ringrazio chi mi ha ascoltato trasmissione magia stregoneria paganesimo io sono Claudio Simeoni via delle vignole quattro Marghera vi do anche l'indirizzo dell'istituto mediterraneo studi politeisti è casella postale 53 marostica vicenza vi ringrazio per aver ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione magia stregoneria paganesimo spero che ci sia qualcun altro che sia anche l'amico Gian che tratterà della sua partecipazione al rito sul topiano di Asiago e se no mi dia un colpo di telefono a casa che ci mettiamo d'accordo quanto bene arrivederci a risentirci sono arrivati i ragazzi per la musica e a giovedì prossimo ore 15 15.10 grazie grazie